Allora vi parlo dal Supercar Show di Roma, noi rappresentiamo qui la scuderia Ferrari Club che è il sistema dei club ufficiali di Ferrari, siamo legati alla Formula 1 e supportiamo tutti i fans di Ferrari, siamo qui, una bellissima fiera, un gran successo di pubblico, siamo molto soddisfatti di essere comunque presenti, ci sono comunque una varietà, una grande varietà di vetture sia da competizione sia di serie, io rappresento qui la Ferrari, forse può fare anche una carrellata, la vettura che vediamo è la vincitrice del Ferrari Challenge del 2009 e ce l'abbiamo qui in rappresentanza del marchio. Ripeto, comunque vi invito tutti a far parte della grande famiglia di Ferrari, iscrivervi ai nostri club e partecipare con noi agli eventi sportivi del marchio. Un saluto a tutti quanti e vediamoci in fiera! Grazie a tutti!